buongiorno ok ancora buio fuori avete visto? capelli fatti guardate ragazzi siamo arrivati finalmente a scuola c'è Giorgia che non si tiene guarda ragazzi è arrivata la campanella buongiorno ragazzi finalmente è arrivato il giorno che aspettavamo tutti quanti cioè il primo giorno di scuola della Giorgia sono lì circa le sei e mezzo è prestissimo lì qua vedete la mamma che si è nascosta che sta per stirare la magliettina alla Giorgia abbiamo già preparato la colazione ma manca una persona molto importante cioè la Giorgia ora scusate anche la voce che ci siamo svegliate veramente da forse 15 minuti e quindi direi di andare a chiamare la Giorgina che è in cameretta sua che ancora sta ovviamente dormendo uh quanto ando bello aspetta guarda facendo le luci così Giorgia buongiorno ehi aspetta ti spengo un pochino così ok ok vai Giorgia buongiorno ah già così bella attiva allora dovete notare aspetta che accendo la luce perché se no non lo vedono i bambini oh dovete notare i capelli della Giorgia tutte le volte che mi sveglio e vabbè ora vi direi che tra un po' andiamo a fare colazione ci prepariamo che la mamma già sta stirando le magliette anzi la maglietta eh e poi facciamo vedere tutta la tua roba che hai preparato per la scuola ok ci vediamo di là per la colazione ecco a voi Giorgia che si è alzata e pronta per la colazione allora diciamo sveliamo ai nostri amici Giorgia che cosa mangia per colazione ok vediamo cereali cereali e poi con l'acqua no no non ho già ancora l'acqua no sta preparando il latte sta riscaldando il latte la mamma mentre il babbo salvo mangia biscotti anche lui con latte mentre la mamma cosa mangia mamma? caffè e biscotti anche la mamma ha caffè e biscotti però babbo fuori è buio fuori è buio? faccelo vedere vediamo vediamo guardate 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 ragazzi ok ancora buio fuori avete visto? ragazzi abbiamo terminato di fare colazione Giorgia già in camera che si sta preparando i vestiti ci fai vedere che cosa ti metti oggi Giorgia? si va bene mi metto una maglietta di me ok bella poi calzini calzini perché si metterà queste scarpine e i jeans corto i miei denti ora ma la testa è scusa ma è già calda? certo mi hai attaccata ora? no ma non c'è attaccata prima au au tanto mamma mi interme la pazza dopo mi sento a piccola a vero però capelli fatti guardate allora andate a rivedere il video dall'inizio e guardate adesso guardate come si è trasformata Giorgia con i capelli ora è arrivato però Giorgia il momento di far vedere per la prima volta il tuo bellissimo zaino e quello che tu ti porterai oggi a scuola ci sei? si andiamo qua c'è lo zaino oh guardate questo è lo zaino della Giorgia con le ruote questo è il mio preferito perché è bellissimo l'unicorno ah c'è l'unicorno e poi c'ha le ruote così quando è pesante che fai un patacino perfetto oggi che cosa ti porterai a scuola Giorgia vai allora intanto l'astuccio l'astuccio poi? poi il funnareglia punta grossa ok il quaderno un quaderno così magari già ti possono lasciare i compiti e il portapranzo guardate cosa c'è dentro un cake a pavesini eh vabbè ovviamente il funnake ragazzi come sapete non può mai mancare perché il pasto, la merenda preferita di Giorgia ormai lo sapete no? anzi qual è la vostra merenda preferita? scrivetela nei commenti allora Giorgia direi di sistemare tutto nello zaino così poi crembiule e si va via che già si è fatto tardi ok pronti crembiule dobbiamo dire al babbo che ieri abbiamo sistemato il fiocchetto giallo vero che è il fiocchetto della sua sezione vero e l'abbiamo posizionato da quest'altra parte da questa parte in modo che non dia fastidio allo spallaccio dello zaino vero perché Giorgia è emozionata ma io sono più emozionata di lei perché? mi rischi zaino pronto? io direi di andare in macchina pronta? andiamo aspetta aspetta ma vieni qua vieni qua vicino domanda ma sei un po' emozionata Giorgia? tanto emozionata no un po' ma hai dormito questa notte? non è che piangerai fino ad arrivare a scuola? no sicura? sì ok dai ragazzi io non vedo l'ora di conoscere i miei compagni nuovi i nuovi maestri mamma poi è vero che c'è una maestra si chiama Cinzia? parola come la mia mamma c'è una maestra si chiama come la mia mamma poi c'è degli amici che erano già miei amici quindi che erano già il mio asilo poi vi racconto tutte le cose dopo quando torno dalla scuola ma voi l'avete già iniziata la scuola? scrivetelo nei commenti ragazzi siamo quasi siamo vicino alla scuola ragazzi siamo arrivati finalmente a scuola c'è Giorgia che non si tiene guarda guarda è tutta agitata tutta emozionata allora questa è la scuola dove andrà lei grazie grande c'è già la gente che sta arrivando Giorgia io non so fin quando possa entrare con la telecamera ma cercheremo di riprendere ogni minimo secondo del tuo ingresso a scuola oh però ti raccomando dopo vogliamo sapere tutto quello che combinerai va bene a me le maestre le due di qua non mi dò l'ora allora noi già siamo dentro la scuola ok no dentro siamo nel cortile della scuola siccome siamo in anticipo la campanella ancora non è suonata quindi aspettiamo che suona la campanella per darci l'ultimo abbraccio Giorgia sii hai visto arrivata anche la tua amica Giorgia però che non siete in classe insieme è vero? no no perché lei ha già il fiocco? rosso rosso invece tu ce l'hai? giallo quanti bambini ci sono Giorgia? tantissimi tantissimi ma anche la campana non suona ragazzi è suona la campanella e allora ragazzi abbiamo lasciato anzi abbiamo consegnato la Giorgia alle maestre e allora com'era? com'era? era molto agitata però forse eravamo più agitati che io e la mamma che diceva comunque era molto contenta era tranquilla sembrava molto felice e quindi dopo vi faremo sapere com'è andata quindi continuate a seguirci anzi soprattutto se voi avete fatto anche voi il primo ingresso a scuola diteci nei commenti come vi siete sentiti se avete pianto se i vostri genitori hanno pianto quindi perché siamo curiosi proprio di leggere i vostri commenti a dopo guarda chi sta arrivando guarda chi sta arrivando com'è andata Giorgia? benissimo ora si va a casa e ci racconterai tutto va bene? si vai ed è tornata la Giorgia dalla scuola guardate qui allora Giorgia raccontaci il tuo primo giorno di scuola con i nuovi compagnetti com'è stata? allora mi sono divertita un sacco ok ma a un certo punto sembrava che c'era un leone in classe perché? perché la mia faccia brontolava tantissimo ah quindi avete fatto un po' di merendina si mi sono mangiata tutto è sempre un po' vediamo le maestre come sono? divertenti divertenti allora domanda difficilissima come si chiamano le maestre? allora una si chiama Cinzia ok un'altra si chiama Pietro non se ne ricorda va bene normale lo imparerai piano piano senti un po' invece i compagnetti quelli nuovi come sono? carini carini? quindi siete stati sempre in classe o poi vi hanno portato anche fuori a giocare? no giocano anche fuori quindi siete divertiti possiamo dire che questo primo giorno di scuola com'è stato? bellissimo ma c'era qualche compagnetto che ha pianto? che voleva la mamma? no c'è uno ha pianto per tutta la lezione ah perfetto ok e anche il primo giorno di scuola è andato io e papà siamo molto curiosi di sapere cosa avete fatto voi nel primo giorno di scuola scrivetelo nei commenti anche oggi abbiamo terminato a questo punto un altro video se vi è piaciuto lasciateci tanti like attivate la campanella degli aggiornamenti e soprattutto se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale e noi come sempre vi salutiamo con un grande wow ciao al prossimo video ciao